Non capisco perché l'acqua si muove dalla mia destra verso la sinistra. Ci deve essere un'emissione di acqua che io non riesco a vedere, è forse la pendenza che la fa scorrere, ma questo bacino qua deve alimentarsi per forza. Allora, io sono alla destra di questo fiumiciatolo come il sogno di ieri notte che sognavo di andare su un'ardine e di essere alla destra di questo fiume. Ma questo fiume va in senso opposto al sogno. Nel sogno penso che l'acqua andasse da sinistra verso destra, mentre qui sta andando da destra verso sinistra. Non riesco a spiegarmi, non lo avrei. Però se io vado dall'altra parte dell'argine, è chiaro che se mi metto così ho l'immagine alla rovescia, ossia l'acqua scorre da sinistra verso destra. Vedete? Ecco. Questo è il mio pensiero di oggi. Buon 158esimo giro di rotazione a tutti.